Siamo dove e che cosa fate esattamente? So che fate una cosa molto divertente. Sì, noi ci troviamo in Val di Noto, fra i comuni di Rosolini e Noto. Abbiamo un'azienda che prende il nome da una trota autoctona, la trota Macrostigma. Detta trota Macrostigma perché ha una macro, grande, stigma, macchia, vicino all'occhio. Ed è la trota autoctona siciliana perché non è vero che quando uno parla di trota immediatamente la mente deve volare necessariamente al nord. Anche da noi c'era un vasto consumo di pesce d'acqua dolce prima dell'abbandono delle campagne, dello sviluppo di petrolchimici e roba varia. Il pesce d'acqua dolce era molto consumato e la nostra azienda ha deciso di recuperare questa tradizione e di innovare anche. Noi produciamo un filetto di trota salmonata affumicata agli aromi blei. Il timo selvatico, l'alloro, l'origano, la salvia, il salvione sono tutti mischiati nel legno di faggio rigorosamente non trattato che noi utilizziamo per cuocere con i fumi freddi, quindi anche lentamente, non come la fumicatura industriale, la trota e poi proporla al pubblico in questo formato. Un prodotto molto versatile. Facciamo anche un sugo pronto per la pasta. E l'acquacultura per noi è anche un pretesto per offrire una proposta di turismo integrato ed esperienziale. perché coloro che vengono nella nostra azienda, oltre che poter pescare nel nostro laghetto riconosciuto con i fipsas, quindi divertirsi nella pesca sportiva, possono anche venire a mangiare con una ristorazione a chilometro veramente zero e naturale, anche a fare visite guidate nelle cave iblee del nostro territorio che nascondono ricchi tesori di archeologia preistorica, che è anche paleocristiana e quindi tentiamo di offrire un po' il pacchetto completo per riuscire a far ad emergere tutte le potenzialità che il territorio siciliano, in particolare ibleo, serba.